furgoncino fii furgon camion fiat fu Iveco 175 24 di nuovo ma sta passando sempre il 175 24 sempre ma questo è un po' ma nuovo Iveco 174 mi veniva in mente sempre chissà per quale motivo che sta succedendo ma è bello sentire il suo rompo possente il 175 24 d'epoca degli anni di fino agli 80